Oracol, ho collegato la plinca all'antenna a microonde. Perfetto. Ho fatto una chiamata anonima alla polizia. Manderanno qualcuno a prelevare l'ostaggio. Dai, dai, connettiti. Ah, adoro la tuta. Ok, entrambe le torri sono operative. Cerchiamo lo spaventapasseri. Devo usare entrambe le antenne per individuare le frequenze radio e a microonde in tutta Gotham. Se trovo entrambe le frequenze nello stesso punto, saprò dove lo spaventapasseri produce la sua tossina. Le frequenze radio e a microonde indicano la Ace Chemicals. È lì che lo spaventapasseri produce la tossina. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals. Lì troveremo lo spaventapasseri. Impossibile. Ho lasciato lì una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti. O peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim. Sto arrivando. Ciao. Il binguino viene da una grossa famiglia di Gotham. Quella parlata l'ha presa a scuola. Sempre che sia vera. Che insegue? Semina quell'affare! Forza! È Batman! E ha un carro armato! Oddio! Portaci via da qui! Oddio, che cosa fa? Che sta facendo? Capitola! Aspettare Batman! Notizie dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno risponde. La struttura è isolata. Se sono ancora vivi, li troverò. Potranno dirci cosa trama lo spaventapasseri. Ma che diavolo! E' ora di morire, vecchio. Nella morte, non deve più temere alcunché. Tenetelo alla larga dalle Ace Chemicals. Avrai la tua vendetta. Finisce tutto stamattina. È un amico tuo? Sta qui e andrò a scoprirlo. Oracle, chiunque sia ha radunato un esercito. Mi serve un nome. Abbiamo delle informazioni da una squadra di servizi segreti in Venezuela. Hanno scoperto una struttura di addestramento con soldati che indossano quello stesso simbolo. Abbiamo solo delle ipotesi su chi le comandasse. Le varie fonti concordano solo su suo nome. Il Cavaliere di Arkham. Il Cavaliere di Arkham? Decretta le comunicazioni. Devo sapere cosa tramano. C'è dell'altro. Degli operai della Ace Chemicals sono ancora sul posto. Ci aiuteranno a rintracciare lo spaventapasseri e la sua bomba. Devo trovarli. Ogni operaio avrà un suo cip identificativo. Accedendo all'archivio del personale potrò rintracciarli. C'è un terminale della sorveglianza in una cabina vicino a te. Prova lì. Ci sono cinque soldati. Ognuno armato e pericoloso. Prima di poter accedere al terminale dovrò eliminarli tutti. Ascoltate! Lo spaventapasser dice che la reazione è così completa. L'evacuazione finale della struttura inizierà tra 30 minuti. È iniziato allora. Così sembrerebbe. Questa è la parte che adoro. L'assalto a sorpresa. Elicotteri che arrivano dall'orizzonte. Che fanno pezzettini. E allora come va in un senso ultimo incontri? Mi è fatto male qualcosa che ho mangiato un'altra sera. Stupidi razioni. Non sto ancora bene. Che sfiga è. La più grande operazione di sempre. Io sono sotto la pioggia. Fuori da una stupida fabbrica. A cercare di non vomitare. Il comando dice che Batman potrebbe essere diretto qui. O sapremo di che divertirci. Magari lo ammazziamo qui. Sai qualcosa di chimica? So che le maschere non ci proteggeranno. Ma deve esserci l'altro modo, giusto? Batman è il comando! Prima devo perlustrare il complesso. Prima devo perlustrare il complesso. L'accesso al terminale è sicuro. Vediamo se Oracle aveva ragione. Connessione dati attiva. Decodifica dati. Qualcuno dovrebbe aggiornare i protocolli di sicurezza. Oracle, ho i codici personali. Se vado in un punto elevato, posso usare lo scanner per trovare i lavoratori. Ok. Ti ho segnato sulla mappa la struttura più alta della zona. Non cadere. Perfetto. Posso attivare il butt scanner e cercare i lavoratori. Sono riuscita a intercettare una comunicazione radio tra lo spaventapasseri e questo cavaliere di Arkham. Te la trasmetto. Ce l'avevo nel mirino. Potevo chiudere la partita. Non è ancora annientato. Ma ci manca poco. No, ho aspettato abbastanza. Batman morirà stanotte. Perché lo odi così tanto? Non sei mai riuscito a capire. La vendetta è vicina. Questa è la sua ultima notte. Me ne occuperò io. Hai idea di chi sia il cavaliere di Arkham? Pare che voi due vi siate già incontrati. Mi sono fatto molti nemici. Mi sono fatto molti nemici. Ha funzionato. Rilevo cinque chip personali all'interno della struttura. Speriamo che siano ancora vivi. Occhio! Batman è qui! Il cavaliere! Prima devo ferlo... L'unico modo di trarre in salvo il lavoratore è abbattere quella parete. Devo portare la Batmobile nel complesso. Non vuol dire che non possiamo divertirci. Basta che non lo uccidiamo. Ecco tutto. Vedi anche tu il picco sul router interno. Non è niente. Un disetto di funzionamento. Questa qui ha esaurito il suo scopo. Vabbiamo che continuiamo nel servizio. Permesso tanto uno sfrutto di risorse. Vabbiamo che continuiamo nel servizio. Oracle, hanno ucciso un lavoratore. Chiavolo. Dobbiamo fermarli. Senti, ho violato le comunicazioni della milizia. D'ora in poi potrai ascoltare ogni canale di trasmissione. Grazie, Oracle. So come entrare con la Batmobile nel complesso. Pagheranno per questo. Tutti. Tutti. Via libera. Devo portare dentro l'auto. Porta principale aperta. State pronti? Sta arrivando un canale armato da un milione di dollari. Abbiamo mandato un Diamond back nel cortile principale. Lo distruggeremo. Sono proprio i testi. Il tuo cannone da 60 mm penetrerà le unità corazzate, ma ci vorranno diversi colpi diretti per abbatterle. I droni hanno attaccato la zona di carico. Vediamo un becca al supporto. Lo vedo. Signore, ha sfondato la corazza, come aveva previsto. Sta cercando gli ostaggi. Mantenete al minimo le comunicazioni via radio. Stanno ascoltando. Stai ascoltando, viener Batman. Allora ascolta questo. A tutte le unità schierate a Gotham, l'operazione salvatore è iniziata. Ciascuno di voi ha un ruolo. Ciascuno di voi conosce il suo ruolo. Quindi prendete questa bellata città e isolatela. Entro un'ora voglio le nostre mani strette alla gola di Gotham. Ciascuno di voi conosce il suo ruolo. Stai scolando. Delegatemi, vi prego. Grazie, dicevo, sei qui. Dentro! Dentro! Via, via, via! Diviniamoci! Tenete le armi, puntate su di lui. Se vi sembra che stia progettando di uscire dalla stanza, fate fuoco. Ah, e non mirate al simbolo, è solo... è solo un trucco. È il punto più corazzato. Mirate prima i punti deboli nella spalla, quindi aprite il fuoco sulle giunzioni tra le placche. Ti prego. Hai detto qualcosa? Non coinvolgerlo. Sempre a proteggere i deboli e gli indifesi. Ecco, cos'amo di te. Sei scontato. È per questo che vinceremo. Possiamo prevedere ogni tua mossa. Sappiamo come vengi. Sai a cosa sto pensando ora? Scommetto che ti chiedi chi il diavolo è quello. No. Sto decidendo quale di voi metterò al tappeto per primo. Però sarete tutto chiari. Sappi che voglio ucciderti, ma prima vogliamo vederti soffrire. Abbiamo il bersaglio. Basta una parola e metterò fine a tutto questo. Gotham sarà nostra. Fatelo fuori! Fatelo fuori! È stato incredibile. Credevo che ci avrebbero uccisi entrambi. Ora sei al sicuro. Non ne hai le più pallida idea, Batman. Crane! Lui... Calmati e raccontami ciò che sai. Lo stabilimento è in funzione da ora. Sono entrati con camion, armi, soldati e in più sostanze pericolose. Sapevano che cosa facevano. Sta producendo la sua tossina su vasta scala. Sono guai. Guai seri. Parliamo di una nube di gas in grado di coprire l'intera costa orientale. Dov'è lo spaventapasseri? Io... Io non ne ho idea. So solo che sta proseguendo col suo chiaro. E che ha uno stramaledetto esercito. Siamo spacciati, Batman. Lo fermerò io. Ma prima ti tirerò fuori. Aspettami alla Batmobile. Trovatolo, spaventapasseri? Non ancora. È peggio del previsto. Quanto peggio può essere? Sta costruendo una bomba che ricoprirà di psicotossina l'intera costa orientale. Porta gli uomini fuori da qui. Vai alla centrale e asserragliatevi. Tieni tutti dentro. Toglierò i miei uomini dalle strade, ma resterò qui. Se trovi qualcuno, portalo da me. Jim, è troppo pericoloso. Lo fermerai. Ne sono certo. Vieni duro. Riporterò dal commissario Corno. Signorino, ci sono blindati della milizia in tutta la città. Gotham è invasa. Se non fermo la bomba di Crane, non ci sarà una città da salvare. Ottimo lavoro. Sapevo che non ci avresti deluso. Non è ancora finita, Jim. Torno a prendere gli altri. 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 Oh Oh Unità R.A.C. voglio raccarichere le scade e prontare lo scaccio Il loro esercito non deve avvicinarsi alla città Il loro esercito non deve avvicinarsi alla città A tutte le unità rimaste evocazione finale tra venti minuti Signore, i nostri blindati li fanno il solletico Quel suo veicolo ha un potenziale offensivo inaspettato Si è dato da fare Ha distrutto i blindati Niente paura, ne abbiamo altri Sì, ma non qui, non in questa stanza Che facciamo se viene qui? E ora ha paura, che fregno Pensa di essere più forte ma si sbaglia E ha il rischio di estinzione Aspetta il mio Ehi, uomo a terra! Ehi, uomo a terra! Sono già due operai morti Avrei dovuto fermare tutto questo Batman, senti Ho parlato con Robin E credo che dovresti accettare il suo aiuto Hai di fronte un intero esercito Ha ragione Siamo una squadra A Gotham serviamo entrambi Me la cavo da solo, Robin Ti ho detto cosa devi fare Fallo e basta Non adesso No, adesso Sai cosa c'è in gioco Devi rimanere concentrato O le cose peggioreranno E anche molto Non dovresti essere così duro con Tim Vuole solo aiutare Non farti condizionare dei tuoi sentimenti per lui Credi che io lo voglia là fuori in pericolo? Preferirei saperlo Ma potrebbe aiutarti Se Robin non salva quelle persone Le conseguenze non saranno meno pericolose della bomba di terra Ma potrebbe aiutare dei tuoi sentimenti pericolose della bomba di terra Siamo a tre vittime Questi animali la pagheranno Li fermeremo Come sempre Dico bene? Forza di terra Founders Island in mano nostra Torre di guardia e poste di blocco sono completamente operativi Ora voglio un'unità di attacco su un'iagare E un torre di battuglia in ogni danno L'ascensore non va più in alto di così Dai tu, in piedi Di qua, muoviti No, ti prego Ho detto muoviti Alzati Le bambine mani di sotto Altrimenti Vuoi che ti insegni un po' di educazione? Ti prego No, ti prego È colpa tua, te la sei cercata Ora comportati da uomo Noo C'è una cosa che non capisco Se quel cavaliere Se quel cavaliere smuga da tutto Lei che ha subito un esercito così grande Deve essere più presto di uno spogliere Allora perché non ho mai seguito un amare? Non so, non so Ogni supercriminale mi abbia passato a te con il po' e Ma tutto parte Siamo dello scogliere Il cavaliere gli avrà tolto fino all'ultimo centesimo Non ve li avrà convinti Ma è stato così convincente da beccarsi un esercito da 3 miliardi di dollari? 3 miliardi per prendersi Gotham? Eh, è un po' troppo Ma il suo obiettivo non è Gotham Eh, è un po' troppo Ha un po' troppo No, 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 no Screcchiatelo Non sta rianimando Guarda, difendetemi! Sveglia! Mi resta solo uno, non svecarlo. No! Copritemi, solo quest'uomo! No! Attenti, non posso più rimettermi in piedi. No! Dovresti fermare! Vai! L'altro tempo! Tutto ok, sei in salvo. Sei in ritardo. Siamo tutti spacciati. Sai della bomba che sta costruendo? Dove si trova? Hanno detto che si trova al miscelatore centrale. Sai cosa significa? Si prepara a rilasciare la tossina. Ho visto cosa fa quella roba alle persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos! Non permetterò che accada. Ti tirerò fuori, vai all'ascensore. Jim, il secondo laboratore è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? È al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso. Peggio, Jim. Ma lo fermerò. Hai la mia parola. Oddio, siamo bloccati qui. Quest'ascensore è un'unica mia scelta e ne è andata! Sono soltanto felice di potermene andare! Alfred. Ho visto, sir. Le prime scansioni indicano che il velivolo non ha pilota ed è telecomandato. Glocco armi disattivato. Andiamo avanti a noi! Vediamo se riesce a tenermi testa! Allora, ci sai ancora fare, eh? Bene! Allora le cose prenderanno una piega molto più interessante! È al colpo! Mi piacerebbe essere lì dentro! Quanto ti tratterresti? Hai sentito? È solo il primo di una lunga serie! Etc! Grazie a tutti. Non hai vinto! Stanotte la pagherai! Per ogni cosa! Oracle, Rain sta preparando la bomba nel miscelatore centrale. Mi serve un modo per entrare. Subito. Ci sto lavorando, ma mi servirà ancora qualche minuto. Trovalo, Barbara. La calma è la virtù dei forti, non lo sapevi. Parlo. Questi due sono stati fortunati. Gli uomini di Crane hanno ucciso gli altri. Bastardi. Portali alla centrale, ma fai attenzione, Jim. La milizia è in tutta Gotham. Che cosa pensi di fare? Mostrerò a Crane cosa succede a chi porta scompiglio nella mia città. Oracle, devo arrivare allo spaventapasseri. Non c'è più tempo. Questo non ti piacerà. C'è un solo ingresso e pare che sia stato sigillato dall'interno. E il condotto di servizio? Corre sotto al muro portante della struttura. Ti ho mandato la posizione. Cosa pensi di fare? Improvviserò. Cosa pensi di fare? La risorsa è cruciale per il mio piano. Non mi deludere. Ah, io non deludo mai. Cosa pensi stiamo tramando? Prima dobbiamo fermare lo spaventapasseri. Poi mi occuperò del Cavaliere. Cosa pensi di fare? Batman, forse ho trovato il punto debole dei blindati droni. Indago ancora e ti farò sapere. I soldati sono coperti da quella torretta. Dovrò eliminarli alla svelta per non essere individuati. Perché dicono che è un blindato? Non lo so perché è proprio grosso. E quindi adesso? Seguiti. Batman, siamo tornati sani e salvi al commissariato. I blindati sono ovunque. Quei bastardi hanno pianificato tutto da settimane. Sta lì e fa quel che puoi, Jim. Ti affronterò una volta sventata l'esplosione. Contiamo tutti su di te, Batman. Ce la faremo anche stavolta, lo so. Per poter usare l'auto, devo farla arrivare in questa zona. Ci siamo, a tutte le unità. Evacuare l'impianto Ace Chemicals. Ripeto, ordine di evacuazione definitiva. Chi rimarrà indietro? Farà una pignatrice terrificante. Ascoltate, mi hanno appena riferito che la fase 1 è completa. Proprio ora il nostro cliente si prepara a inghiottire la città intera in una nube di gas. Ricordate l'addestramento. Maschere antigas inutili, respiratori inutili. Solo due cose vi salveranno. Andare sottoterra o tanto in alto da sovrastare la nube. L'esposizione alla tossina causa gravi psicosi. E in casi estremi, autolesionismo. Vi è stato assegnato un punto di ritrovo. Raggiungetelo. Oh, che Dio vi aiuti. E quando lo avrete raggiunto... Mettetevi comodi. Abbiamo droni per le strade e torri che congono. Brecciami il perimetro e Batman! Alzati, amico! In arrivo! In arrivo! Oh! Oh! Tu stiamo a terra! Oh! 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 Non è la vostra amenza! In arrivo questo! Oh! Che c'è più? No! Vincere dai otto! Copritemi, uso questo uomo! Ora, figliato! No! No! Faremo freddo! Promesso! No, la star rianimando! No! 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 Non spreccare, non è resta qua! No! 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 Mi presto soccoruto! No! 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 Fermatelo! 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 No! 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 Ho appena lanciato una simulazione basata sulla capacità del miscelatore. Non sta bluffando, Bruce. Ora sappiamo perché ha fatto evacuare la città. Voleva il controllo della fabbrica. Solo alla Ace Chemicals si può costruire una bomba di queste dimensioni. Le conseguenze saranno in mani. Abbiamo fatto il suo gioco. La fuga dei cittadini era irrilevante. Sapeva che nessuno sarebbe sfuggito al raggio dell'esplosione. A tutte le unità di maletti, convergere sulla zona operativa dell'Isola Ovest. Ora! Avete fatto un ottimo lavoro stanotte. Caota me è nostra! Signori, stanotte Gotham cambierà per sempre. Stanotte diverrà una landa maledetta dagli inni. Un simbolo cadente del fallimento di Batman. Un monumento alla paura. Ma soprattutto, faremo di Gotham l'epicentro di un'esplosione che trasformerà l'intera costa orientale americana nel mio regno. Devo impedire che quelle sostanze vengano caricate nel miscelatore. Una volta sgombrata la stanza, potrò pensare a fermare l'esplosione. Dov'è il cavaliere? Mandate i rivolgi. Chiettisce l'occupazione. Continuate a muoverli. E' bella fuori. Laciù, per Batman. Sicura da questa parte! Ho anche il traversaglio, stupido! Vado a prenderne un altro. Emergenza, a piazza e esplosione 23 miglia, in aumento. A che punto siamo? Ci siamo quasi. Ci siamo quasi, non fermarti proprio ora. Sentito! Ehi, cosa ti è successo? Qui non c'è nulla. Cercherò ancora. Altro nome agente caricato. Devo ricordarti che abbiamo un'agenda fittissima. Gotham pagherà anche per quanto mi ha fatto il suo salvatore. Finito un altro tubo. Emergenza, a piazza e esplosione 31 miglia, in aumento. E' qui, alla sottostazione! Sta scappando, stiamo lì addosso! E' scomparso, usa i fumogeni! Ciascuno di voi ha ricevuto un'incarica. Eseguitelo! pregate di non dover mai sperimentare la mia psicotossina di persona. Gli abitanti di Gotham potranno anche scappare. Ma non sfuggiranno mai al loro destino. A quanto pare, il flusso delle sostanze si è fermato. E questo può solo significare che sei arrivato, Batman. Aspettavo con ansia di rivederti. Pensi davvero di aver vinto? Hai paura? Sei prevedibile. Ho il completo controllo di tutto. Come si spegne? Lasciami, o lei morirà. Di che cosa stai parlando? Barbara, Corton... L'avete trovato? Fuori di qui! Ora! Calma! Nessuno sa che sono qui. Niente fa così male come perdere un familiare. Sapendo che non puoi incolpare nessun altro che te stesso. Alfred. Ho sentito cosa ha detto quello squilibrato. Sto tentando di contattare la signorina Gordon, ma senza successo. Prova ancora. Attenzione! Esplosione imminente. Preparazione del neutralizzante. Che cosa fa? È troppo tardi. Non può fermarlo. Lo so. Non cerco di fermarlo. Ma di ridurre l'esplosione. Ma che sarà di lei? Non importa. Trovala, Alfred. Agenza del neutralizzante. Le sostanze nei contenitori sono instabili. Dovrò muovermi lentamente e con cautela. Sir, la prego di ripensarci. Se ne vada subito, morirà se quell'esplosione la investe. Non c'è altra via, Alfred. C'è sempre un modo, Sir. La prego. La prego. Agente neutralizzante impiegato. Abiezza e esplosione ridotta del 25%. Dimmi dov'è, Alfred. Non ne ho idea. È colpa mia se l'hanno presa. Miss Gordon era consapevole dei rischi. Neppure lei si starà dando pace per l'accaduto. Sir, mi ascolti? Non capisce? È questo che lui vuole. Senza di lei Gotham sarà la sua mercè. Non può lasciarlo vincere. Agente neutralizzante impiegato. Abiezza e esplosione ridotta del 50%. Sto monitorando la struttura. Non ha più tempo. La prego, se ne vada subito. Me l'hai insegnato tu. Fa la cosa giusta. È solo questo che conta. Signorino Bruce, se la imploro. Deve andarsene da lì. Se è a causa di Miss Gordon, non può accusare se stesso per ciò che è accaduto. Si salvi prima che sia troppo tardi. Addio, Alfred. Agente neutralizzante impiegato. Ampiezza e esplosione aumentata del 1.300. Ti manco? Agente neutralizzante impiegato. Bene, adesso come diavolo faccio entrare? Campione vocale analizzato. Identificazione confermata. Benvenuto, commissario Gordon. Incredibile. E' un paese. Come diavolo faccio entrare? Beh, non investimenta mineralizzate Task kabul. E' un paese. È un paese. Paese è un paese. Grazie a tutti. Commissario, grazie al cielo. Dovete tirarmi fuori di qui. Mi tengono rinchiuso e mi sottopongono a test continui, come una cavia. Ma non c'è nulla di strano in me. Senti la mia mancanza, Batman? Oh, sei tu, il Commissario Noia. Cos'hai fatto alla mia anima gemella? E mischiati tra di noi e ti inciderà un sorriso così largo da farti cadere la testa. Non dirmelo! Non dirmelo! Tu sei il Commissario della Polizia! La tua faccia era su quel cartellone che hanno coperto con il mio! Cosa aspetti, vecchietto? Giornicino si esibisce a richiesta. Cosa vuoi, Spirro? Come ti permetti di fissarmi? Pensi di potermi controllare? Nessuno controlla Goliath. Batman! Rieto tu sia qui, Jim. Dai un'occhiata. Che posto è questo? Chi è questa gente? Prima di morire, Joker ha inviato sangue infetto a tutti gli ospedali dello Stato. Sì, li abbiamo trovati tutti. Ne mancano alcuni. Come? Errori ospedalieri. Trasfusioni non registrate. Cinque persone contagiate. Senza cure. Il sangue si è sviluppato a lungo. Le sta alterando. Stanno diventando... Joker. Mio Dio. È una forma della malattia Kreuzfeld-Jakob. Mutata oltre ogni precedente medico. E quello sembra diverso dagli altri. Henry Adams. È quello infetto da più tempo, ma non ha sintomi. È immune al sangue di Joker. Robin sta conducendo analisi per scoprire il perché. una cosa è certa. Henry è la chiave di tutto. Ho collaborato. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto. dicevi che ci sarebbero voluti pochi giorni. Non puoi trattenerlo contro il suo volere. Manca poco, Jim. Non possiamo lasciarlo andare se non salviamo gli altri. Aspetta. Hai detto cinque, ma ne vedo solo quattro. Ne manca uno. Ne manca uno. Presto sarà qui. Bruce... 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 Oh, non essere così sorpreso, Batman. Sapevi che prima o poi sarebbe successo. Sono qui dentro di te, in profondità. Insieme daremo a questa città quel che si merita. Un nuovo Batman. Un Batman migliore. Un cavaliere più... Oh. Bene, parliamo più tardi. Primo, dobbiamo concordare su alcune priorità. Certo, hai salvato la città contenendo l'esplosione. Ma la Ace Chemicals sta comunque per scoppiare. Devi pensare a me stesso. Dopo tutto, ora fai il broncio per due. Attenzione, esplosione imminente. Oh, mamma, mi sei mancato. Hai la delicatezza di un mistero all'Avan. Oh, mamma, mi sei mancato. In emergenza. Sono qui. Oh, mamma. Alfred Grazie al cielo Dopo l'esplosione Credevo che... Tranquillo Alfred Ho ridotto il raggio dell'esplosione E impedito che la tossina inondi la città Che mi dice di Crane? Oppure di quel cavaliere di Arkham? Hanno blindati, missili Le loro forze sono in tutta Gotham Crane è fuggito Sono stato esposto alla tossina Santo cielo, va tutto bene? Ricorda cos'è successo al manicomio? Tutto ok Ho avuto una reazione violenta Ora è finita Tanto di cappello allo spaventapasseri Non sono mai stato un fan dei suoi intrugli Ma questa nuova ricetta è... Un vero spallo Tira fuori tutto il me che c'è in te Sir, ha sentito che ho detto? Il commissario Gordon ha cercato di contattarla Grazie Alfred Jim Sei uscito L'avevo detto che non mi avresti deluso Ho bisogno di parlarti Certo Vediamoci fuori dalla prigione della polizia Sto arrivando adesso Sto arrivando adesso Grazie per la visione!